Situazione emiliano-romagnola. Alan Fabri, qual è la situazione in Emilia-Romagna per quanto riguarda gli stranieri e quanti sono in percentuale? La percentuale regolari è attorno al 13% della percentuale più elevata tra tutte le regioni italiane. Questa la dice lunga anche su come la politica dello Stato sociale dell'Emilia-Romagna si è concentrata molto sugli extracomunitari. Io non credo che sia questione di razzismo o cose di questo tipo. Se parliamo poi dei campi Rom e quello che ci è capitato, che è stata una cosa indegna di essere attaccati dai centri sociali... Di questo la farò parlare ovviamente. Per quello che riguarda invece l'immigrazione, credo che deve essere un'immigrazione regolare, ben costruita. Non possiamo permettere che anche in Emilia-Romagna capitano delle cose a livello di stanziamento di fondi. È quello che si riferiva prima Bonaccini, che l'11 novembre scorso il Consiglio regionale ha stanziato 5 milioni di euro per gli alluvionati emiliano-romagnoli, quindi Parma, la bassa modenese, la Romagna, e invece ha finanziato sui 15 milioni di euro dal 1 gennaio ad oggi per i campi Rom, per i centri d'accoglienza dei cittadini extracomunitari e per sostenere le aziende che hanno come rappresentante legale un cittadino extracomunitario.